Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati sul nostro canale youtube. In questo video vi presenteremo un doppietto acromatico, anzi sono una serie di doppietti acromatici, due sono composti, sono già cementati, mentre uno è separato, è formato due lenti differenti, una lente in vetro crown e un'altra lente in vetro flint. Adesso stiamo vedendo ancora i due doppietti composti già fatti. Ecco, si dovrebbe vedere una riga dove sto indicando adesso con le unghie, si vede che sono la cementazione, se il lavoro è fatto bene, come in questo caso, le lenti sono perfette e viene corretta l'aberrazione cromatica, quindi i colori sono perfetti. Ecco qui invece vediamo una lente che compone un doppietto e qui vediamo l'altra lente, sono due lenti differenti e qui vediamo che vengono accoppiate, in questo caso non verranno cementati insieme, ma sono messe insieme per farvi capire il concetto del doppietto. Due lenti differenti, una in vetro crown e l'altra in vetro flint. Hanno indici di dispersione differenti questi due vetri. Grazie per aver visto questo video e vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale. Buona giornata a tutti. Grazie.